segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma sicuramente le notizie che arrivano dal niger sono pessime notizie sono pessime notizie per l'europa sono pessime notizie a maggior ragione per l'italia che in prima linea sul fronte del mediterraneo che ha giocato molte carte sull'africa se salta quella cerniera la cerniera del sahel ne vedremo delle belle possiamo dire sia sul versante dei flussi migratori sia sul versante del disordine del caos che rischia di generarsi in africa a partire dal suo baricentro sono notizie di queste ore che c'è un rischio di guerra interafricana certi versi burkina faso e mali si sono già schierate con i golpisti la nigeria che confina sud col niger invece contraria ci mancherebbe ancora un intervento muscolare di macron e la francia per gettare benzina sul fuoco e credo che sia giusto cercare di scoraggiare il più possibile questo scomodo alleato sulle questioni africane perché quello a cui stiamo assistendo nel centro africa è il fallimento della politica francese sono gli ultimi colpi di coda di un colonialismo che non si rassegna a riconoscere la propria la propria fine il fatto stesso che ci siano tutte quelle truppe non solo francesi in quei territori dimostra una volontà di continuare con quella logica coloniale e allora come dire sull'europa io non mi faccio grandi grandi illusioni pensare a un'europa capace di una politica adeguata alla sfida che l'africa lancia e vorrebbe dire cercare di tirar fuori sangue da una rapa l'europa non è riuscita a elaborare una propria politica estera di fronte alla gigantesca tragedia l'europa per esempio sui soldi in questo caso quelli del pn